Con questo Be Quiet Dark Rock Pro 5 cari amici torniamo agli albori del canale parleremo di gaming con un dissipatore che mi ha davvero stregato Ciao amici benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di dissipatori per pc e vedremo un prodotto per me semplicemente fantastico destinato a processori di fascia alta permettendoci anche vezzi di overclock ma prima di andare a vedere un po' più da vicino questo Be Quiet Dark Rock Pro 5 cari amici solito momento supporto lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna novità e ovviamente commentate per farmi sapere le vostre opinioni e seguitemi su TikTok dove ci sono contenuti molto interessanti in meno di un minuto se avete bisogno di assistenza informativa gratuita o più semplicemente di un consiglio scrivetemi poi su Instagram o tramite il mio canale di supporto Telegram aiuto veramente tutti il link al solito lo trovate sotto in descrizione dove trovate anche il mio nuovissimo canale Whatsapp dove ci sono un sacco di chicche interessanti ma bando alle ciance andiamo a vedere un po' più da vicino questo fantastico dissipatore cari amici l'ho smontato un attimo per farvelo vedere nella sua maestosità e nella sua dottilità vi posso garantire che questo dispositivo è davvero molto semplice da montare e molto semplice anche da configurare cominciamo subito col dire che all'interno della confezione troviamo tutto quanto quello che ci occorre per montarlo sia sui processori AMD compresi AM5 sia sui processori Intel compresi 1700 abbiamo anche il black plane per andarlo a fissare al meglio invece per quanto con genere AMD non abbiamo bisogno immancabile poi è il giravite be quiet magnetico e abbiamo anche la pasta termica che suppongo sia sufficiente per uno al massimo due utilizzi parliamo subito di un qualcosa che non mi piace cari amici e si questo prodotto io l'adoro ma c'è una cosa che non mi piace ovvero è una cosa soprattutto che ci farà perdere qualche fps non ci sono led e si sa senza gli RGB le prestazioni nel gaming non possono essere top scherzi a parte a me il sistema per come concepito di questo Dark Rock Pro 5 piace e non poco infatti va a presentare un sistema a incastro dove andremo a utilizzare queste due alette che ci permetteranno un fissaggio veloce e rapido della nostra ventola e ci permetteranno anche eventualmente di andare a regolarla secondo le nostre esigenze come potete vedere il tutto è davvero semplice basterà solo incastrare le alette qui e possiamo quindi regolare anche l'altezza della ventola ventola cari amici che è una Silent Wing 4 da massimo 2000 RPM un prodotto semplicemente fantastico anche se ha un qualcosa che non mi piace ovvero un connettore proprietario che ci impedirà di fare delle customizzazioni ma cari amici a mio avviso non sono necessarie ventola che è 120x190 però spessore di 25 mm come dicevamo presenta un pin di alimentazione proprietario che però cari amici visto da un'ottica migliore ci permette di rappresentare una semplificazione per chi non è avvezzo al montaggio della componentistica dicevamo ventole che possono raggiungere 2000 giri garantendo un flusso d'aria di 82 metri cubi l'ora semplicemente tra le migliori ventole pc in assoluto a parte ciò cari amici il sistema di montaggio del dissipatore è davvero semplice e intuitivo e regala un'esperienza di assemblaggio libera da frustrazioni la qualità costruttiva come un po' tutti quanti i prodotti Be Quiet è davvero eccezionale le plastiche e il metallo utilizzato per rivestire le lamelle e gli head pipes danno tutta una sensazione di solidità e sicurezza di un prodotto super super premium parliamoci chiaro questo non è un prodotto per tutti infatti per il montaggio come potete vedere voi stessi abbiamo bisogno di un case dalle dimensioni generose infatti stiamo parlando di un dissipatore ad aria dual tower con 7 head pipes da 6 mm 14.5 cm di lunghezza 13.6 di larghezza e 16.8 di altezza con un peso di 1.29 kg si avete capito bene questo dissipatore tutto compreso pesa 1.29 kg con queste dimensioni il primo interrogativo da farsi è ma le ram ci stanno la risposta anche se il mio consiglio è quella sempre di optare per ram low profile si anche perché per via della clip per fissare la ventola anteriore che ci permette un'estrema utilità riusciva a ottenere uno spazio fino a 64.9 mm che non sono di certo pochi il Bequette Rock Pro 5 possiede inoltre un hub nascosto con questo lettore Q&P nella ventola centrale ventola centrale che è da 135 x 135 x 2.5 mm ed è anche qui stiamo parlando di un prodotto estremamente top sempre una Silent Wings 4 semplicemente più grande rispetto a quella frontale abbiamo un selettore che ci permette di impostare due modalità la Quiet Mode e la Performance Mode differenziarlo ovviamente è solo la velocità della ventola nella Quiet Mode parliamo di 1500 giri nella Performance Mode parliamo di 2000 giri mi sembrerà strano cari amici ma per quanto concerne il gaming la Quiet Mode è più che sufficiente ci permetterà di tenere il nostro processore al fresco e di avere un ambiente davvero molto silenzioso questo dissipatore lo vedremo a breve nella nuova configurazione da gaming scrivetemi sotto nei commenti con quale processore volete che lo testi quindi il mio consiglio è quello di non optare per le 9 12900k 13900k 14900k perché con questo dissipatore non avrebbe molto senso l'azienda per questa tipologia di processori ha altri prodotti anche se ricordiamoci che riesce a leggere un TDP di 270 watt ma andrebbe un po' a naturare l'essenza di questo dissipatore che ci dà delle performance spettacolari mantenendo un silenzio davvero assoluto ok amici in questa recensione non voglio annoiarvi con numeri e dati ma voglio racchiudere tutta quanta la mia esperienza di test in poche parole concise che vi facciano capire questo dispositivo che sono sincero a me è piaciuto per il gaming è davvero eccezionale nella modalità Quiet è davvero impercettibile e offre performance di raffreddamento davvero top sinceramente penso di farci una build ad esempio con un i5-14600k che suppongo sia davvero il processore perfetto a cui affiancarlo non lo utilizzerei ad esempio con un i9 versione K soprattutto se è dodicesima, tredicesima, quattordicesima generazione per questo processore cari amici andrei a pensare ad altro l'azienda propone molteplici opzioni e non lo utilizzerei nemmeno per l'overclock non perché non vada bene ricordiamoci che supporta un TDP da ben 270 watt ma semplicemente si snaturerebbe un po' l'animo di questo prodotto che si sceglie se si ha bisogno di un dissipatore ad aria molto silenzioso impercettibile in moltissime situazioni se si pensa solo alla potenza di scapito dei decibel opterei per altro ma per una configurazione dove si userà il pc in modo misto ovvero studio, navigazione web, gaming o anche editing come faccio io beh non penso che i amici abbia rivali ma tiriamo un po' le somme e vediamo i pro e i contro tra i pro sicuramente qualità costruttiva estremamente silenzioso soprattutto nella modalità quiet adatto al montaggio anche dei meno esperti perfetto cari amici a mio avviso per qualsiasi configurazione da gaming contro non adatta a tutti quanti i case ventola con attacco proprietario cari amici qui sono un po' ironico non ha gli RGB bene cari amici per questo video è tutto mi raccomando condividetelo e scrivetemi sotto nei commenti con quale processore volete che lo monti in modo tale da creare una configurazione da gaming customizzata sulle vostre esigenze che dovrebbe uscire a breve e mi raccomando cari amici attivate la campanella per non perdervela un saluto dal masso di YouTube che va forte anche su TikTok ciao 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 ciao